Questa puntata è offerta da Grazie a tutti Grazie a tutti Tu sai? Ma vi altri? Vi capisco cosa faranno da queste fotografie che abbiamo da fare? A me mi hanno detto che devo fare le donne immagini per manifesto dell'ente del turismo L'unico paese al mondo con una statua vivente E mi che diventi famosa senza Panagot Ciao Alla via A dire magari un po' da rossetto Un po' da ponte Se non mi ha sbagliato sui scorsi Sì, va come le cose Ehm, ehm 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 Perché il signore però avanti lo dovete mettervi voi tre lì sulla panchina con la statua per la propanità dell'ente del turismo Ehm 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 Perché non so tanto bene come funziona questa macchina Ehm 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 Eh Ehm 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 считano Perfetti! Sei qui proprio? Allora, sei riuscito a farle foto? Sì, sì, signor Signor, guarda, che già dicino, ne ho fatte tante! Eh sì, così si può prendere la migliore! Meno male che ogni tanto i tuoi neuroni si svegliano, vai a vedere! Sfogato! Qui ha tagliato fuori la statua, qui le tre donne. Questa? Eh, questa fosse una bella, aspetta che intervisco. Eh, chi sono queste tre sgarapane qua? Guarda la statua! Ti sembra il modo di foto che la farla, questo? Eh? Adesso la metti a posto, eh? È subito a partire dalla faccia! Eh, guarda, ma signor Signor Signor, ma io cosa ci posso fare? Come? Ti avevo detto tre gnocche! Ma quanti anni hai? Lo sai che cos'è una gnocca? Eh? O ti devo fare il disegnino? Eh, guardi, eh, che lei aveva detto tre rispettabili milf, Eh, in pratica, guardi che al giorno d'oggi le milf vanno di moda, eh? Le milf? Eh, visto che parlo in inglese, te lo dico in inglese! Voglio le teen! Le teen! Hai capito? Le teen? Eh, ma scusi, ma come ce l'ha detto qui? Dieci milf? Eh? Le teen! Non teen! Eh, attento all'inquadratura qua, vai! Ma pensate! Teen, teen, ma adesso che faccio? Ah, da matrami, guarda, mi fotografi il di dietro con lo sfondo il paese, eh? Slogan! A ballo una botta di culo e la vita e la fortuna ti sorriderò! Eh, ma, mi scusi un attimo, ma il sindaco è... non lo so se... Fa come ti ha disimi! De' becca in inglese! Va bene! Ma, guarda, signora Statua! Ma si dai, teen, teen, back! Ma quello che è? Facciamo! Forza! Grazie mille, signora Statua! Oh! Grazie! Tu dove vai? Te ne vai senza toccarlo? Ah, ma... vai! Ma perché, signora? Ma certo, porta fortuna, dai! Ecco, va bene, io tingone! Guarda, sei però la pensata! Ma c'è una Statua! Cosa la fa? Oh, che vergogna! Offedi il mio senso del pudore! La pura mercificazione del corpo femminile! Ehi, c'è il culo femminile! Da questo Paschi salvo in tema finito! Oh, sì! Anche proprio più... Dalla legione! Oh, pornografia! Pornografia! Pornografia da partì! A mille non faccio ciò! Tornografia da partì! Mia ma è un proprio dreddile anche a noi. Allora, una nuova tendenza culturale, no? Chi sapete proprio come? Un grottesco alza e leva a pittoresco dopo andare progressivamente dal post-surrealismo e tutta la culti dall'interpretazione dell'attrice che è ironica e post-moderna. Sì, però noi siamo incantati dall'originalità, eh? Promi, sì. E sì, per fare un... Insomma, però noi non capivamo mia come il signo di bestia come lei hanno potuto avere un'idea geniale. No, credi geniale di poche. E l'idea è stata mia, mia dal signo. Sì. Però... E come la fai ad avere un'idea in sci? Per me è un colpo da fortuna. Sì, quel che si dice in dialetto è un colpo da di dietro. Alla famiglia mi dirò come piace mettere la faccia. Ah, e che faccia, che faccia, eh? Sì, 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 lei è un pittoresco che il saleva in post-surrealismo bellissimo. Ma adesso è una foto, la facciamo con lei girata così. No, al sindical ha detto che sei troppo vecchio. Un sindical di sci? Un sindical di sci? Perché? Un sindical di sci? Siete vecchie! Cos'è la dì? 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 E' la dì? Che ti mette da far far? Eh, eh. E ti ha avuto la dì? Che c'è la dì? Ma che dì? Cos'è la dì? Dì? Cos'è la dì? Hai presente quel bischetto, che il sindical sta lì ogni tanto alla sire in macchina insieme alla maestra? O che, so, mi spero anche a sentire se o tre a pensare a dire... Allora, noi, a porto un liceo in una macchina, dicono che porto una caccia, no? Quando ero un lì, a specie un che qui li spassano giù le sediglie, se avete dentro i suoi, e dopo, dicono che si era finito in quella direzione lì, che è la macchina, anche al canale delle puntate, quella direzione lì, no? Dall'arrivo, metto a colpi, forno di mele e spara. No, 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 no. Allora, due ragazzi, il figlio, il figlio, il figlio di mele, eh? Inutile. Ma, no, no, no! Tanti! I palini al caccia! Si fermo a incontrare la guerra, eh? Da pericolo i cani, millie, se è caccata, e la faccia la figlio del frammento. Alle morte. Alle suscrue anche sul certificato della psichiatra, e poi tutto. Vogliono fare una goccia! E se noi mi mandano qualche cosa, pensano che noi vi dico, no, fai la mia serapiche, fai la mia serapiche! E non mi ascoltà. Lei sulla statua se la finita. Ma voi altri, hai già visto la statua che parla? No, da solo. Non vedo, non sento e non parlo. Va a parche visto chi ha appunto il suo vaginato. Ma io non devo. Devo, non devo, eh? Devo, non devo. Non venire a credere. No, devo. E' brava la nostra statua. Mi sa che proporrò al Consiglio Comunale un aumento, eh? Non so se accetteranno, ma voglio provarci. E' che in questa posizione, signor Sindaco, è un pochino faticoso. Ah, beh, si. Da che esiste il mondo del lavoro. Cioè, da che inizia il mondo, lavorare è stato sempre sangue e sudore. Ho capito, di sangue e sudore, ma è veramente faticoso. Lo sai? E qua sotto qui, qua sotto qui metteremo quel cartello. Toccare per credere e la fortuna ti sorriderà. Ecco. Eh? Sangue e sudore. Eh? Però adesso anche il posteriore devo dar via. Ah, no, no, no. Ma solo toccare, eh? Se no mi accusano di mobbing. Ah, ecco. Perché questo non è mobbing? No, 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 no. A Roma, a San Pietro, toccano il piede. A Verona, alla Giulietta, toccano la tetta. E qui a Baldo, eh, toccano il tuo sedere. Scusa. E beh, però, intanto, più le meme incalzò. Eh, beh, sì. Ma è normale. Ma mica si lamentano San Pietro e la Giulietta, eh? E poi, dai, che più te lo toccano su. Eh, più ti piace, no? Eh? Ma, ma cosa pensa? Che le donne sono tutte così? È così che la pensate voi uomini? Oh, no, 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 no. Non dire questo che poi mi dicono che io non parlo political correct. Eh? Sì, eh? No, 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 no. Questo è mobbing. Stefania, perché fa fermo? Perché si ferma il camion. Allora, a leggere che punta. E c'è anche il punta. No, 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 no. Due, due, due. Guarda, al punto da là perché è quella di Reciugli che faccia. Due, due, due. Nooo, Crippio. Ma devo fare i candazziti. Oh no ma l'increzzo, ma questo non la si chiamano. No, 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 no. Serafim! Don! Gampi spalla! Chi? Sì, Gampi spalla, che ce la ho, la dai don. Ma no! Ma no! Nini! Nini! Stai serena, vuoi uscire? Dai, il pericolo è passato! Ma no, vedi cosa hanno combinato la carrozzeria! Sembra un colapasta! Lo so chi è stato! Le milf! Quelle tre scalampane! Non lo so! Maldo! Ma che dobaldo! Che dobaldo! Grazie a tutti. Grazie a tutti.